Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno e buon lunedì 13 marzo con il Vangelo secondo Luca 4 24 30. In quel tempo, giunto Gesù a Nazareth, disse al popolo radunato nella sinagoga, in verità vi dico, nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naman il Siro. Allo dire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale la loro città era seduta, per gettarlo giù dal precipizio, ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Segui il commento di Don Luigi Maria Epicoco. La pagina del Vangelo di oggi registra un incontro abbastanza teso tra Gesù e i suoi compaesani, senza troppi giri di parole, egli dice che è più facile fare del bene agli estranei che a quelli più vicini, perché solitamente chi ti è vicino può ammalarsi di pregiudizio nei tuoi confronti e quindi non riesce a vedere il bene che hai da offrirgli. È una lezione immensa, quella che nasce dalla famosa frase «Nessun profeta è ben accetto in patria». Sembra che il Vangelo voglia spingerci a fare un grande esame di coscienza su quanto siamo disposti a mettere in discussione i nostri pregiudizi, specialmente con le persone che sono a noi più vicine. Troppe volte, infatti, l'incomprensione, la distanza, il risentimento diventano dei muri che separano le persone nella stessa casa, nello stesso condominio, nello stesso quartiere, nella stessa città. Troppo spesso ci convinciamo che il bene esiste ma non abita con noi e proprio per questo ce lo andiamo a cercare altrove. Ma dire tutto questo ad alta voce non porta a Gesù consensi, bensì desiderio di buttarlo giù dal dirupo. Eppure, per mostrare la verità delle sue parole, aveva portato degli esempi concreti. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il Cilu fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova insarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non a manni il Siro. Se Dio opera più facilmente miracoli con gli estranei, ciò significa che i familiari hanno un problema da risolvere. Siamo noi, quei familiari, che devono convertirsi.